Un avvocato integerrimo, un infam prodigio dell'avvocatura, ma anche un uomo tenuto sottotiro, minacciato, guardato a vista. Sono questi alcuni degli elementi emersi dalle carte dell'inchiesta che ha portato all'arresto di Marco Gallo quale presunto esecutore materiale dell'omicidio di Francesco Paiuso, come ad esempio quando il Lametino fu portato in un bosco e qui aggredito per scontare la colpa, secondo Daniele Scalise, suo assistito e appartenente al gruppo della montagna di non averlo difeso adeguatamente in alcuni procedimenti legali, tanto da indurre ai suoi sodali Vescio e Iannazzo apporsi alle spalle di Paiuso durante un'udienza con atteggiamento definito dagli inquirenti chiaramente intimidatorio. I rapporti si sarebbero incrinati definitivamente all'indomani dell'omicidio di decollatura, qui in un bar appartenente ad un fratello di Scalise verranno uccisi Giovanni Vescio e Francesco Iannazzo e Paiuso assumerà la difesa di Domenico e Giovanni Mezzatesta. L'avvocato riuscì poi anche a fare rimodulare davanti alla Suprema Corte di Cassazione la condanna originaria e durante la sua ringa sciorinò nomi, cognomi, collegamenti tra le famiglie di Indrangheta coinvolte nell'omicidio, raccontando degli interessi negli appalti per la costruzione della strada del Mediosavuto. Sarebbe stato quest'ultimo episodio a fare aggiungere alla lista nera il nome di Paiuso, su quella lista c'erano tre nomi, Luigi Aiello, Domenico Mezzatesta e Francesco Paiuso. Tiziana Bagnato per la CNews24.